Dopo una lunga agonia, l'ordine dei commercialisti Sala Consilina a Lago Negro è stato commissariato. Il decreto porta la firma del Ministro della Giustizia, che ha sciolto il Consiglio e nominato commissario la dottoressa Maria Rachele Vigani di Bergamo. Questo è l'epilogo di una dura lotta interna ai vertici dell'ordine. Da una parte il presidente Nunzio Ritorto e i suoi sostenitori, dall'altra il vicepresidente Romanelli e chi, come lui, aveva preso le distanze dalla gestione Ritorto. È il caso del segretario Gennaro Cono De Paola e del tesoriere Pietro Ciociola. Più volte avevano sollecitato il commissariamento. Romanelli, inoltre, aveva impugnato dinnanzi al Tar anche il silenzio rifiuto del Ministero di Giustizia avverso la sua istanza di commissariamento dell'ordine. Un braccio di ferro che di fatto ha messo in stand-by ogni attività. Sono amareggiato per quanto accaduto, dichiara l'ormai ex presidente, ma sono soprattutto preoccupato, aggiunge, per il destino dell'ordine e dei colleghi commercialisti già provati dagli effetti devastanti dell'emergenza Covid. Non sarei mai voluto arrivare a questo giorno tanto atteso da chi invece ha firmato la fine dell'ordine. Sarò sempre grato a tutti i colleghi che in questi anni, concludo e ritorto, hanno apprezzato il mio lavoro, a chi non ha fatto mancare il suo appoggio in questi mesi dolorosi e ai consiglieri Salerno e Caggiano, che hanno tolto tempo al lavoro e alle famiglie per dedicarsi fino alla fine ai compiti connessi al mandato espletato. Da mercoledì scorso l'ordine è nelle mani del commissario, a cui toccherà traghettarlo fino all'elezione del nuovo consiglio direttivo, un rinnovo che dovrebbe avvenire entro il 2021.